Oggi in Campania è ufficialmente iniziata la scuola per tutti gli studenti, dall'infanzia ai licei, ad eccezione di alcuni comuni, in particolare nel Cilento, dove i sindaci hanno deciso di posticipare l'apertura delle scuole a causa del clima ancora estivo. Non sono mancati ovviamente i messaggi augurali, tra cui quello del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Luisa francese. Ai genitori ha detto, ricordo che il legame scuola-famiglia è un nesso indispensabile e fondamentale per un corretto sviluppo educativo dei nostri ragazzi. Non ha fatto mancare il suo saluto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e l'assessore regionale all'istruzione, Lucia Fortini. Sia un anno scolastico, scrivono nel messaggio inviato alla comunità scolastica campana, in cui ognuno scelga, tra gli altri scopi curriculari, un obiettivo concreto e tangibile, impegnandosi a conseguirlo sino in fondo. Nel messaggio si fa riferimento al clima, ai suoi cambiamenti, ad una nuova sensibilità ecologista che deve pervadere i giovani. La regione campania, ha scritto De Luca, si impegna a donare un albero per ogni istituto scolastico e farà ancora una volta la sua parte in termini di sostenibilità, umanità, solidarietà. Non lanciamo un proclama o una sfida, noi siamo dentro la sfida, non c'è tempo da perdere. Il saluto del presidente della provincia di Salerno si è rivolto anche ai genitori, estendo gli auguri anche alle famiglie che accompagnano il percorso formativo dei propri figli, affidandoli fiduciosi all'istituzione scolastica, costituendo quindi un'unica comunità scolastica, ha detto Michele Strianese. Il sindaco di Noceri Inferiore ha affidato a Facebook il suo messaggio di augurio. In bocco al lupo, ragazzi, ha scritto Maglio Torquato, studiate e divertitevi, oppure divertitevi e studiate, nell'ordine che preferite, ma fate entrambe le cose. Il sindaco di Cava dei Tirreni, nel suo messaggio, ha voluto salutare anche i più piccoli. Un augurio particolare, lo rivolgo, ha detto Vincenzo Servalli, a quei piccoli bimbi che per la prima volta entrano in una scuola e dalle loro famiglie un momento pieno di ansie, ma anche di gioia, per un percorso di vita che inizia. Nei giorni scorsi il vescovo della diocesi di Nocerasarno, Giuseppe Giudice, aveva inviato il suo tradizionale messaggio alla comunità scolastica. Suona di nuovo la campanella per un nuovo anno scolastico e una folla enorme di alunni, docenti, famiglie e personale della scuola a quel suono comincia o riprende l'avventura. Come bella la scuola, per imparare ad insegnare occorrono passione e competenza, lavoro quotidiano, metodo e disciplina. Ed infine l'arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, che cita il diario di Cesare Pavese. L'unica gioia al mondo scrive e cominciare. È bello vivere perché vivere e cominciare, sempre ad ogni istante.